ma rega ma c'ho la playlist sotto quindi non sono io che scelgo la canzone quanto mi dà truccato a me questa canzone del compleanno all'inizio era bella pare capodanno comunque subito andiamo a quella casa marzo domani c'è la patch e meno sperando che cambino qualcosa io spero che non sia solo un'aggiunta di roba ma che mettano proprio c'è mettino mettano contenuti grazie vale o se qualcuno di voi mod c'ha voglia nel senso che vado sotto io tanto non ne ho non ne ho che che stanno in live quindi se volete entrate vi do il modo non c'è problema ancora ieri ho sentito che volevi che bannavano le persone no perché arriva la gente che flamma come le bestie di satana no capirai più di meno un po non flammare qua c'è una mitraglietta c'è il thompson sto a posto c'è uno che sta spaccando sotto sbaglio c'è il pompa marzo vado fuori eccolo in testa un altro là dentro marzo ma pensavo stava abilitando tipo qualcosa gli ho tirato una stecca in faccia qua c'è una foto da 50 prendila che l'hai killato tu ok vabbè si cazzo c'è no vabbè che altra gente sud west ma lo sappiamo devo andare formiamo materiale volevo vedere un attimo la casa col semi interrato perché non è stata l'ultato arrivo e io onestamente avrei bisogno potrei darmi lo slurp che dici se trova una pozzetta ma lodo mi vanno andare io seguo le tue cose quando vuoi andare io sono pronto e allora comunque questo è tutto tranne che c'è sotto di me colpo di volta più grossi dietro al muro è entrato in casa c'è uno che spara in testa è un altro tizio quello allora marzo io ho le granate per quel tizio ma quello dentro casa l'hanno buttuto non so dove sia stai spaccando da qualche parte poi mi arriva dalla finestra non mi ha fatto malissimo eccolo nella cameretta io ho le granate da tirare bravo marzo è esploso se c'è colpi di un po in più te li prendo eh ne ho 18 te ne lascio 9 non so tu ma io se non è tonso normale mitragliate non è che le apprezzo poi se non c'è almeno una mitaglietta ce la devo sempre avere ah beh no quello lo prendo aprendo prima perché l'auto tipo double pump e uso pump e mitragliere ma quello che stava dietro che fino a fa è scappato via ah lo vedo sta la casa quella lì grossa centrale oh ma questo non c'è razzi la casa centrale a ovest quella ovest quella ovest quella ovest ah quella ok lo veniamo a busciare eh boh penso sia un bidone non lo so anche se ormai bidone tutto gioco a parte io non ce ne sono più no non lascia sta non è quella il meta di adesso che un skill no però gio veramente no no sì anime gio tu hai mai giocato a monopoly no cioè quello con gli amici sì con le amiche però che noi l'abbiamo comprato su su play e ci giochiamo insieme come se fosse cartaceo con la grafica in 3d e carini ci sono dei drogati ho visto la clip del massa o la massa ora io cosa cosa aspetta aspetta la sagra del capibab ah sì volevi scappare preghiamo per lui ah ma c'ho ben dodici colpi di a r e questo chi cazzo permette dato il testa due volte one shot io ho finito hanno più ricuperati adesso i colpi ok ok a questi cosa cazzo stavano facendo qua col disco cazzo te devo dire la droga proprio la droga della droga 18 colpi di a r ragazzi che ce l'ha se ti serve io se non li usi no a metà se non li hai e no 18 colpi ciò è lasciata nel thompson quelli che posso lasciare io li ho lasciato contrattando con il pazzone è meglio la mitraglietta o ma questo tac blu lo chiamolo abbandonato eh no io vado di to di banta eh quello lo uso pure io però mi dispiace la suppressede submachine gun secondo me la prendo al post della air no non serve più niente fa 8 di danno da lontano ora 8 di danno 8 effettivamente un po pochi i miei sogni sono durati molto poco ma c'è una quest in cui bisogna sparare ai piattelli raga che io non so che la facciamo al volo si sono sicuro ma loot lei no no questa allora proviamo un po come funziona il tiro al piattello che io non lo so eh lo devi spingere e farti un piattello che penso che il tuo amico debba sparare ma dove sta sì 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 bisogna farlo cinque volte da solo porca puttana non l'ho visto aspetta aspetta ma lo faccio bene se lo faccio così lo faccio perfetto col pompa è una puttana dai porca due che fail cosa cazzo dai ma che palle che è il pump lo odio il pump ah in posti diversi ah vai vai fallo una volta allora vai marzo in posti diversi parti da solo? devi premere F e poi parte da solo dopo un po' eh io c'ho la E eh vabbè scusami vai GG possiamo andare è il giocatore più forte della storia non c'ho manco le pedale salterine potevano aiutare eh il cazzo se ci spaccano ora moriamo se mi spaccano adesso gli dovrò spaccare la famiglia mi mette in una brutta situazione sono scesi? ma come? si stanno lootando andiamogli in testa mo c'è un altro team pure oh merda ok quelli da e sopra c'è qualcosa per fare si si se te la vedi brutta vai mi metti la trap non ce l'ho la trap ah è morto si quanto sono handicappato a fare quella cosa io ma marzo se tipo una cosa lo vorresti tu il lanciarazzi? dammelo si c'ho una pistola sta qua prendiamo le cose al volo ti haci pozzetto lanciarazzi o granate? no la granate ce l'ho io prendi il lanciarazzi e ti lascio i colpi allora p90 se lo vuoi mo a voglia qua 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 tieni questi colpi vai let's go muoviamoci in safe ah ma c'è il coso per volare posso tenermi il p90 al botterà? dove è il coso per volare marzo scusami? qua sopra sopra dietro queste scale qua lo vedi? ah eccolo vai va easy così beh così è easy as fuck eh si così è proprio easy ahhh penso di aver fatto il massimo di danno in questa partita 10 sono toccato ancora di 10 shit up and porca puttana che sticka ma da dove sta? da dietro se puoi rimanere là sopra tua eh no no sono sceso mi cura guarda dove stanno gli altri riti no io salirei lì sopra bro sulla montagna si si andiamo ecco ma non edito eh pure a me non editava ma un botto eh no pure a me non editava un cazzo ah mi sta ancora lasciando pure da dietro pure da dietro allora il tizio che ho visto io è a 235 lo vedi? ah l'ho visto e c'è l'amico sotto l'amico l'ho laserato un po' quello sotto sta attento se mi viene così io lo faccio danno sì vabbè chi è? è l'altro è l'altro quello più lontano 8 di dano gli ho fatto lo sto ferendo se continui a coprirti non so dov'è questo il problema sotto di te fatto? mi devo curare ammarzo curi curi io c'ho un falò eh no c'ho il medico l'ho trovato sono anche le tortine che mi andrò a prendere ah vabbè ma dai ma tua madre non può essere di queste proporzioni qua c'è un cieco ma guarda dove sta ma dai ma per piacere se c'ho una finestra prova a sparargli sì bilda fino bilda fino andiamo a prendere il loot ma continuo ad andare più alto con gli uni dov'è che vuoi andare? prendere il loot andiamo ma voglio capire quello perché stava bildando per andare fino non lo so senti ma colpi di AR hai preso da quelli? tieni lasciati 200 no 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 a AR piccoli tieni tutti tutti oh ma basta mi hai rotto il cazzo non capisco come cazzo ti fanno colpire così Marzò Marzò è incredibile però come ti colpiscono ti giuro è assurdo proprio quando non miri tu è più facile guarda eh guarda se mi prende Cotimo oh cecchino dorato tua sorella se non lo prendi ho venito a prendere il chug non serve non serve ora come non ti serve il chug ora no si stanno spostando se vuoi portalo no eh ma c'ho 5 o 7 eh io sono 10 vabbè lo vengo a prendere lo vengo a prendere aspetta ok vai te li lascio qua sto ce l'ho anche i razzi cioè il razzo che ho preso il cecchino dorato che è la prossima volta che mi spara da così lontano no ma tanto muo gli saliamo muo gli entriamo dentro ora gli saliamo sopra andiamo da sinistra oddio con quanta velocità ho buildato questa è cool andiamo da sinistra andiamo da sinistra Marzo sto dietro di te stanno fightando eh con chi? eh con qualcuno questo è il nostro momento Marzo il time to shine si tanto shine ma dov'è la chat lo spam di time to shine quanto cazzo sono ninja di Bari mi salgo sopra la loro struttura? pazzo distruzione di massa vai 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 spamma 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 oh coglione ho scattato uno l'ho bloccato bravo muori cosa? no io lo inseguo Marzo non mi può fregare di me io lo inseguo ma questo morto è qua ah ci godo ci godo cazzo ci godo cazzo ci godo lo sono proprio andato a prendere di violenza questo mamma mia ti giuro mi stavo accanendo contro quello Marzo ah ho visto che l'hai presa con poca filosofia sporgi quella cazzo di testa hitato possiamo andare si 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 mamma mia Marzo vai ricarico sparo io vai 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 ricarico io un è sceso ti è buttato giù un'altra è sopra come ho fatto a non prenderlo attento toiettato 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 sparo io toiettato ancora se mi buildi non mi spaccano tutto no ti ho buildato io grande Marzo toiettato toiettato dove stai sono va beach sotto si si eccolo qua sotto qua Marzo no no merda ho fatto il cazzone non vedo niente c'è un albero davanti che mi copre la visuale ok ho fatto il coglione Marzo mi cura e ti resto no fai tranquillo l'albero che mi copriva la visuale ma vi rendete conto che su cazzo oh ragazzi pensavo di poter arrivare c'è questa è la sfida Ho il 360 sul tuo pad L'hai lisciato in pieno Sei il peggiore Ho paura Marzò Tanto Eccolo Ah l'ho visto Vedo l'altro E cadono Marzò tu ti occupi di uno e io mi occupo degli altri Che vuoi fare? Eh ma questo è morto tipo Oh e che cazzo è? Mi ha sparato uno da dietro Da dove? Una madonna ragazzi Sì Marzò io mi devo curare Vai Ma l'altro l'hai noccato? No Allora c'è un tizio sper nascosto No Giorgio E ora non posso distruggere Tranquillo Spacca pure tutto Senza Questo è un matto Anzi questo è matto come l'acqua in Africa Qua dentro Aspetta che non posso mettere le scale normali Non giochi per due giorni a questa cosa è finita Marzò ne manca uno Ah eccolo Il tazzo è a uno di vita e è morto No prima che l'ammazzo la safe Bravo Cos? Eh sì Ma era fuori Almeno nella mia visuale Ma non so nella tua Il tazzo è un 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 tazzo è un